In questa video guida vi mostro come utilizzare Free Video Dub, un programma gratuito e disponibile anche in lingua italiana che vi permette di tagliare uno spezzone da un video in maniera molto semplice. Appena lanciate il programma, se non doveste comparirvi in italiano potete cambiare la lingua cliccando su opzioni e selezionando italiano dall'elenco disponibile. La prima cosa da fare è caricare all'interno del programma il video da cui vogliamo tagliare lo spezzone e per fare ciò ci sono due modi, uno è attraverso il pulsante relativo alla voce file di input, questo pulsante vi permette di selezionare il video dai percorsi del vostro computer. L'altro modo più semplice vi permette di trascinare direttamente il video dal vostro desktop ad esempio all'interno della finestra del programma, in questo modo viene subito riconosciuto e vediamo che è comparso qui il percorso di dove si trova, mentre da quest'altro lato dove vi è la scritta file di output vi compare il percorso e il nome con il quale lo spezzone che andrete a tagliare verrà salvato. Vedete che per default il programma aggiunge al nome originale del video questa stringa, ma potete andare a cambiare il nome che volete cliccando su questo pulsante e come prima scrivendo un nome e selezionando il percorso. fatto ciò potete spostarvi nella parte in basso dell'interfaccia dove vi sono relativi pulsanti per fare l'operazione che desiderate ovvero quella di tagliare lo spezzone. il cursore che trovate in questa barra vi permette di muovervi all'interno del video in modo da aiutarvi a selezionare il percorso. I pulsanti che sono qui sotto vi facilitano ulteriormente questo compito, ad esempio le frecce di sinistra e destra posizionano il cursore rispettivamente all'inizio e alla fine della durata del video. Il pulsante play naturalmente serve ad avviare la riproduzione del video, il pulsante stop a fermarla e questi due pulsanti vi permettono in particolar modo di muovervi frame per frame all'interno del vostro video andando indietro ed avanti. Inoltre vi è quest'altro pulsante molto utile che riesce ad individuare le varie scene del video ed infatti cliccandolo vedete che si ferma all'inizio di ogni scena. Inoltre questo pulsante più piccolo vi permette di modificare la sensibilità con la quale vengono individuate le varie scene. Visto ciò possiamo andare a scegliere una spezzone che vogliamo tagliare. La prima cosa da fare è posizionare il cursore nella parte dello spezzone iniziale. Una volta individuata questa parte clicchiamo su questo pulsante qui e vediamo che compare questo triangolino che indica il punto in cui inizia lo spezzone. Poi segniamo un'altra zona e clicchiamo su quest'altro pulsante. In questo modo vediamo che viene evidenziata tutto lo spezzone che abbiamo selezionato e vengono abilitati questi altri pulsanti che ci permettono di operare sullo spezzone stesso. Questo pulsante ad esempio ci permette di avviare la riproduzione di soltanto alla riproduzione lo spezzone del video che abbiamo evidenziato. Mentre questo ci permette di cancellare la selezione e quest'altro di spostarci dall'inizio o alla fine della selezione. Questo pulsante qui invece ci permette di eliminare una porzione di video che abbiamo evidenziato. Per esempio in questo caso abbiamo evidenziato questo spezzone e cliccando qui andiamo ad eliminare tutto lo spezzone che era contenuto nel video. Con questi pulsanti invece possiamo annullare un'operazione effettuata. Inoltre il programma ci permette anche di usare le varie funzioni attraverso i pulsanti della tastiera e infatti cliccando su questo pulsante ci vengono mostrate le varie operazioni collegate a relativi pulsanti per azionarle. Il pulsante opzioni ci permette, oltre a cambiare la lingua che abbiamo visto prima, anche a dire al programma di spegnere il computer alla fine del processo, oppure tramite questo pulsante possiamo aggiornare il programma qualora ci fossero nuovi aggiornamenti. Infine, dopo aver selezionato una porzione di video, possiamo andare a salvarlo tramite del pulsante salva video. I valori presenti qui sopra ci indicano rispettivamente la durata totale del video, 3 minuti e 26. Questo è il tempo in cui abbiamo fermato il nostro segmento. Invece questi qui si riferiscono soltanto al nostro spezzone e questo è il tempo in cui abbiamo selezionato l'inizio della spezzone, questo la fine e questo ci indica la durata totale del nostro spezzone. Quando andiamo a cliccare su salva video, dopo un processo che dura a seconda della durata della spezzone che abbiamo selezionato, avremo sul nostro percorso il file tagliato ed infatti abbiamo questo file che ha questo nome che abbiamo scelto noi e che si riferisce solamente allo spezzone video. Con questo è tutto, alla prossima.